E' Taxi a due piazze, spettacolo che il Teatro Marconi ospiterà fino al 14 maggio. Sul palco saliranno infatti due grandi artisti come Giampiero Ingressia e Gianluca Guidi, per uno spettacolo davvero di grande successo. Beh, sì, nel mondo però, non soltanto per quanto riguarda noi. Io sono tanti anni che la faccio, sono arrivato quasi a 600 repliche. Poi si è aggiunto Giampiero Ingressia e i cast sono variati a seconda degli anni in cui l'abbiamo fatta. Però è una commedia che ha avuto un trionfo di pubblico proprio in tutto il mondo. Ma è scritta talmente bene che non si può esimersi da passare due ore ridendo in continuazione. Ma è una macchina da guerra. Non si può non ridere con questo spettacolo. Quindi probabilmente il fatto di questa longevità, se così si può dire, è sicuramente data dal testo di Ray Coney. Un classico della commedia brillante in cui scambi di persona, suspense, ritmi mozzafiato, doppi sensi e situazioni al limite del paradosso garantiscono due ore di puro divertimento. Ma guarda, è un tipo di spettacoli che non ha importanza se è attuale o meno. Sono quegli spettacoli che tu entri a teatro e sai che vai a divertirti. Un'altra commedia di queste qui è Rumori Fuori Scena di Michael French. Sono dei capolavori di questo teatro per cui non esiste una temporalità che scade. Vabbè, io mi diverto tantissimo. Mi diverto tantissimo perché sono un grande fan di questo spettacolo, perché l'ho visto tantissime volte. Gianluca me lo propose nella prima edizione, nella primissima edizione di 16 anni fa, ma io purtroppo stavo lavorando e quindi non ho potuto farlo. E negli anni a venire sono sempre andato a vederlo perché mi piaceva moltissimo. Finché tre anni fa mi ha detto, senti, sei libero? Sì, evviva. E' così, è iniziata la mia avventura sul taxi. La pièce ha debuttato a Londra 31 anni fa ed è rimasta in scena senza interruzioni fino al 1992. E' la figlia? No, vorrei dire il rovescio. Se è Carla, vieni, aspettate, diritto rovescio, non cambia l'aria. In Italia divenne subito popolare con Gianni Dorelli, nella versione di Garinei e Giovannini, in seguito con suo figlio Gianluca Guidi. E da allora è stato un continuo successo per questa commedia. L'ispettore è che non c'è niente che io non farei per Mario e non c'è niente che Mario non farebbe per me. E così sono anni che non facciamo niente a lui. Un APS che anno dopo anno vede il tutto esaurito, con la loro travolgente divertimento e gli stessi attori sembrano ormai parte della storia. Diciamo che Mario Rossi sì, ormai sì, sono 17 anni che lo faccio, quindi sì, senza dubbio. Tant'è che io ho una macchina bianca con scotto scritto 35-70, ormai lavoro per il radio taxi. Diciamo che ho messo molto di Gian Piero in Walter Fattore, o anche viceversa. Però è un personaggio che mi fa molto ridere perché in realtà è una vittima, è la vittima di questo spettacolo, è la vittima della trama. Lui si trova in mezzo, lui è amico di Mario Rossi, però cerca di dargli una mano, ma commette degli errori mostruosi che poi incasineranno di più la storia. Quindi mi diverte molto perché lui si trova, è un po' una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, non sa quello che gli sta succedendo intorno. Diciamo che ha quasi una, è molto candido, suo malgrado poi si troverà sempre di più nel fondo di questo imbuto. In questa nuova messa in scena, sulla versione italiana di Aia Fiastri Guidi, che cura anche le musiche. È ancora regista e guida un cast affiatato. C'è Silvia Delfino, che sono tanti anni, che fa mia moglie Carla, poi abbiamo Stefano Bontepi e Gianluca Ramazzotti, che si alterneranno nel ruolo di Bobby, poi abbiamo Claudio Zanelli, che fa l'ispettore Petinicchio, poi abbiamo Renato Cortesi, che fa l'ispettore Laurinchia, e poi abbiamo nel ruolo di Barbara Francesca Bellucci, che è una ex allieva tra l'altro di Giampiero. Due ore di puro divertimento e allegria vi aspettano. Perché è uno spettacolo molto divertente, garantisco io, se non vi divertite non succede nulla, siete venuti e non vi siete divertiti. Venite, 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 si ride tanti, cioè è bello, poi si sta insieme, tanta gente, tanti attori, è piacevole, è una condizione gradevole, devo dire. Grazie. Grazie. Grazie.